Domenica dovremo sicuramente cercare di giocare come abbiamo giocato dal terzo set, metterci poi un punto di orgoglio in più che non abbiamo avuto al finale del quinto set ieri sera. Sulle due partite che abbiamo giocato sono state tutte e due partite equilibrate, finita il tie break non so bene cosa soffra ma sicuramente qualcosa soffre, il nostro gioco, la nostra battuta.